Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo ci troviamo nel percorso che dalla cripta di Santa Maria delle Grazie collega tutti i vari luoghi di Padre Pio salendo verso la sua cella. In questo luogo spesso ci si sofferma per conoscere al meglio quella che è stata la storia di Padre Pio nella sua Pietrelcina, Mamma Peppa, Zicrazio, Don Salvatore Pannullo, il suo parroco, la Madonnella della Libera e tanti altri luoghi significativi di Pietrelcina. Oggi qui per raccontarvi la storia di Alberto Del Fante, lo ha raccontata Don Pierino Galeone nel suo libro, una storia veramente emblematica. Alberto era nella massoneria un feroce anticlericare, la moglie in quel periodo stava veramente male, era malata di un tumore, era moribonda e non aveva nessun tipo di speranza. Lei però chiese piangendo al marito di venire qui a San Giovanni Rotondo e chiedere una grazia a Padre Pio da Pietrelcina, chiedere la grazia della sua guarigione. Lui gli rispose di sì, cioè gli disse ci andrò, ma non andrò a chiedere la tua guarigione, andrò a chiedere un terno all'otto. Pensate un po'. Lui venne qui a San Giovanni Rotondo, partecipò alla celebrazione eucaristica di Padre Pio, poi volle confessarsi. Nel momento in cui giunse dinanzi al confessionale, non si inginocchiò. A questo punto Padre Pio lo guardò e gli disse, giovanotto, sei venuto per farmi perdere tempo? Che sei venuto a fare per chiedermi un terno all'otto? A quel punto Alberto cadde in ginocchio ai piedi di Padre Pio. Cominciò a piangere, cominciò a sentirsi in vero e chiaro imbarazzo. Padre Pio man mano gli leggeva tutta la sua storia, gli leggeva tutta la sua vita, gli elencava tutti i suoi peccati, tutti i peccati che aveva commesso. E intanto lui con le mani agli occhi e al volto continuò a piangere per nascondersi. E lo stesso Padre Pio gli sussurrò, singhiozzando, figlio mio mi sei costato il meglio del mio sangue, mi devi dare una mano ad aiutare gli altri. E poi prima di congedarlo, prima della benedizione, Padre Pio gli disse, Alberto salutami tua moglie. Lui tornò a casa e la moglie era guarita.